Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come suonare una canzone semplice al pianoforte. Oggi siamo qui con Carol. Ciao a tutti. Questo uomo, grande uomo, che ci aiuterà in una canzone bellissima di... Matteo Romano con Cedini. Dopo la sigla. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi che sono Sol minore, quindi dove ci sono i due tastine di qua a sinistra abbiamo il Do, Sol, Si bemolle, Re, formano il Sol minore. Poi avremo il Mi bemolle, quindi andiamo indietro, Sol, Fa, Mi. Questo è Mi bemolle, Sol, Si bemolle e avremo il Mi bemolle maggiore. Poi Si bemolle, prendiamolo qui, Sol, La, Si bemolle, Re, Fa, Si bemolle maggiore e poi proprio il Fa maggiore. Quindi questo è il Fa, Fa, La, Do, forma il Fa maggiore. E la canzone inizia così. Ok, arrivato a questo punto c'è un pre-ritornello, diciamo, che mantiene sempre gli stessi accordi, sono che sono invertiti e farà prima con il Fa, Sol minore, Mi bemolle. Farà questi tre accordi e fa così. Vorrei parlare fino alle tre, litigare per niente, essere un po' cliché. Guardarti senza avere paura, anche se poi mi confondo, sono strano, lo ammetto. Ok, e adesso arriviamo proprio al ritornello, che avrà gli stessi accordi, praticamente, come con la successione uguale all'inizio. e quindi partiamo con il Sol minore. Ma concedimi un ultimo ballo, un'ultima ora, l'ultimo sole per l'ultima volta, stesso gioco, scacco matto, hai di nuovo vinto tu, siamo in stalla un'altra volta, persi dentro questo loop. Ok, bene, poi la canzone ripeterà sempre la strofa, il pre-ritornello, il ritornello, tutto come prima, e fino ad arrivare, verso la fine, a una parte che è lo special, dove avremo il Do minore come accordo nuovo, quindi questo è il Do, Mi bemolle Sol forma il Do minore, e poi come accordo nuovo ci sarà anche il Re minore, Re, Fa, La. Poi ancora ci saranno il Sol minore, Mi bemolle e il Fa che già abbiamo visto, e la parte farà così. Ma alla fine cosa resta? Ma alla fine cosa sei? Ti ho aspettato senza sosta, ma alla fine dove sei? Ma alla fine cosa resta? Se tu non mi guardi mai, io ti aspetto alla porta, per concederti un'ultimo ballo, un'ultima ora, l'ultimo sole, per l'ultima volta, se sei gioco scacco matto, hai di nuovo vinto tu, siamo in salto un'altra volta, persi dentro questo loop. Ebbene, poi fa ancora una volta gli accordi come l'intro, sempre gli stessi, ma la canzone è sempre così. Bene ragazzi, come abbiamo visto anche questo era un brano molto semplice da suonare al pianoporte, io ringrazio Carlo, Di niente! per averci dato una mano su questo pezzo, e vi lascio come sempre in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi, poi due link per imparare proprio le canzoni a suonare al pianoporte, con gli accordi al pianoporte, e in più la ditteggiatura per entrambe le mani. Se voleste anche accompagnarvi con la mano sinistra, c'è un video che ho girato un po' di tempo fa, vi lascio il link anche di quello, così se volete potete anche accompagnarvi con entrambe le mani. Ciao ciao, alla prossima! Alla prossima!